ciao amico si è vero in questo nuovissimo video oggi siamo qua su su un nuovo vlog c'è una luce molto contentosa qui grazie ad alisia che sta proiettando la torcia la sua torcia perché è buio e voi vi chiederete perché siamo in macchina e sono le 21 e 16 due perché ho questo molto cappuccio molto bello molto trendy allora due perché stiamo andando ad una notte bianca portentosa vicino al mio paese e che stavo a dire ah e due oddio stavo dietro e odio stavo a di 4 ma non so e perché non mi ricordo basta non mi ricordo più niente alisia proietta la luce non è stata scorta no non deve dire il paese e non mi ricordo il paese dal capo Vieni la luce! Non mi vedete ma ci vediamo all'altro paese, alla loro pagina. L'unica cosa che può avviderci è questo, non si vede neanche fuori, una minima di luce molto portentosa, non so se si vede, si vede sicuramente però, buttate tutti. Siamo arrivati. Senti papà, si assente. Siamo arrivati. Aurora! Finalmente avete visto Alicia! Eh! Sentite mio padre, portentosamente. Ok ragazzi! Io sono fatta! Questo è una fatta, ma io voglio cosa faccio. Forse questo video sarà un po' corto. perché ho leggermente, cioè non per dire, ho leggermente la, a parte la batteria scarica. Proprio così. Guarda, non lo so iscrivetevi! E' che, ecco, fra tre minuti la memoria è abbastanza piena, ecco. Quindi, non so cosa fare. Comunque vi volevo soltanto portare con me, però, le sborette. Oh sì! Portare con me questo tour di Spaising, comunque la notte è bianca. E comunque, mi sono niente, io direi che... Se vede, dai! Io sono qui e mia sorella si sta facendo vedere incredibilmente. Questa è la terza volta che si fa vedere, anzi. Più che altro perché non sa che si sta facendo vedere. Alì, addossai a voi. Vabbè. Comunque, ragazzi, visto che fra due minuti mi si toglie tutto quanto, vorrei portarti ancora con me, ma tanto non c'è molto da vedere. E vedete che possiamo fermarci qua con questo episodio. lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti! Allora... Sì... Allora... 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 Allora...